cerchiamo di capire il piano cartesiano disegnato in jmat fx i concetti sono molto elementare il piano cartesiano si divide in quattro quadranti quindi il primo il secondo il terzo e quarto io lo so che la maggior parte non interessa queste cose anche se dovrebbe un attimino interessarsi anche perché a primo impatto se una distribuzione prezzi si sviluppa in quest'area qui quindi dico terzo quadrante io so che entrambi i rapporti di cambio hanno una tendenza ribassista insomma la disposizione delle distribuzioni in base a questi quadranti ci fa capire a primo impatto la tendenza di più monete avendo in ascissa il dollaro e in ordinata l'euro se la distribuzione prezzo di una terza moneta e la terza moneta può essere audi può essere il cad può essere franco svizzero qualsiasi altra moneta si sviluppa in quest'area quindi nel terzo quadrante io a primo impatto riconosco già subito che sia dollaro che euro nei confronti di per esempio franco svizzero hanno una tendenza ribassista non devo guardare aprire tutti i grafici candlestick mi basta soltanto guardare il piano cartesiano insomma il piano cartesiano disegnato in jmat fx ti offre subito una panoramica di tutte le monete che inseriamo al suo interno per esempio se io carico ian che cosa posso capire e lo iana si sta deprezzando perché si sta deprezzando perché le quotazioni di euro dollaro nei confronti di iana sono positive ok vediamo il franco anche il franco vediamo il cad il cad eccolo qui il cad invece capiamo semplicemente che è il dollaro ad essere più forte dell'euro nei confronti del cad quindi senza aprire tanti grafici come nel paradigma tempo prezzo noi abbiamo una panoramica del mercato a primo impatto ci basta un solo monitor questo è potentissimo ok inoltre che cosa capisco quanto effettivamente lo iana il franco e il cad si apprezzano deprezzano nei confronti di euro e dollaro tutte queste monete qual è la moneta che è sostanzialmente la più debole su ciò che noi stiamo osservando ovviamente lo iana perché guardate l'ordinata l'euro sta perdendo con il cad mentre con lo iana sta guadagnando la cosa interessante che noi capiamo anche guardando l'asse dell'ascissa che lo stesso discorso non lo si può fare nei confronti del dollaro ossia dollaro iana ha una quotazione positiva ma anche dollaro cada una quotazione positiva attenzione quindi non necessariamente una quotazione essendo positiva può essere indice di una moneta forte capite sono discorsi molto semplici da capire noi qui stiamo osservando esclusivamente sei vettori e questi sei vettori ci stanno dando una dettagliata panoramica del mercato a primo colpo d'occhio per esempio noi sappiamo che euro iana e dollaro iana sono positivi quindi sono rialzisti anche euro e dollaro nei confronti del franco sono rialzisti a differenza della situazione in cui il cad sta dando filo da torcere a euro rispetto a dollaro quindi qui abbiamo una situazione in cui l'euro sta perdendo con il cad nonostante stesse guadagnando sullo yen quindi questa relazione ci fa capire che cosa che euro cad sta perdendo nonostante euro yen ti ha guadagnando dollaro yen sta guadagnando dollaro sta guadagnando quindi che cosa significa significa che euro perde con dollaro infatti lo vediamo qui sull'asse z badate bene che qui vi è una relazione matematica ho già fatto diversi video a riguardo se io divido euro per dollaro nei confronti dello yen del franco e del cad otteniamo la quotazione di euro dollaro la quotazione di euro dollaro fa riferimento all'asse z vedete qui che è la terza dimensione del piano mercato forex è una figura geometrica però non è una figura geometrica piana ok ha una sua dimensione se io volessi disegnare le coordinate in un piano tridimensionale quindi metterei euro yen qui dollaro yen questo livello e su quest'altro asse io disegnassi un punto di quotazione di riferimento innanzitutto euro yen poi dollaro yen è chiaro che il riferimento a dollaro yen alla quotazione di dollaro yen io avrei una quotazione di euro dollaro ipotizziamo che la quotazione di euro dollaro stia qui quindi io devo avere questo riferimento dove entrambe le quotazioni si incrociano ok stesso discorso come dollaro yen ha un riferimento per euro dollaro anche euro yen ha un riferimento per euro dollaro se la quotazione di euro dollaro si trova a questo livello io devo prolungare anche euro yen fino a quando le quotazioni non si vanno ad incrociare ok e questo è un punto se io portassi tutto in riferimento alle quotazioni che cosa sto disegnando ho disegnato un cubo lo vedete eccolo qua non è perfettamente centrato ma va bene lo stesso questa è la prima dimensione del mercato ragazzi attenzione che sul mercato forex noi parliamo di dimensioni perché se noi iniziassimo a misurare queste distanze 12 12 12 e quest'altra anche questa distanza questa 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 noteremmo che questi valori fanno riferimento ai tassi di cambio e se noi iniziassimo a disegnare a metterli su un sistema artesiano noi inizieremo a notare che il mercato forex ha una forma geometrica solida non piana che cosa significa che il solido ha più dimensioni ok mentre il piano è piano noi potremmo anche metterla in prospettiva però ha soltanto un piano il mercato lo guardiamo così con il paradigma tempo prezzo il mercato noi lo osserviamo attraverso una linea piana mentre in contesto gmat fx il mercato ha questa forma questa è la x questa è la y questa è la z e la cosa interessante che se per esempio la z inizia ad allungarsi la forma cambia diventa sempre più grande insomma le quotazioni determinano la dimensione del mercato per questo io utilizzo i termini espansione e contrazione perché la quotazione al tasso di cambio di una moneta determina la dimensione della forma geometrica che noi stiamo osservando e questo è la prima dimensione perché ce ne sono altre e le altre in questo caso potrebbe essere questa dimensione che fa riferimento a pitagora quindi perché devo iniziare ad osservare il mercato attraverso i piani della gmat fx perché avendo un osservazione totale delle quotazioni io inizio a capire ea determinare quale sarà la dimensione finale del mercato dal momento in cui io entro a mercato